I tanti incendi di ieri e di oggi in tutta la Sicilia, possiamo dire che hanno messo a nudo i tanti problemi che ci sono nel corpo dei Vigili del Fuoco in Sicilia, ne parliamo con Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale USB. Allora, proprio in questi giorni, cosa è che viene a mancare? Sì, già come avevamo già preannunciato nel mese di maggio, purtroppo non attivando le squadre aggiuntive boschive, che erano 21 in tutta la regione Sicilia, i Vigili del Fuoco nell'ordinario vanno in crisi quotidianamente. Ovviamente con le forti ondate di calore gli incendi aumentano e il soccorso tecnologico ordinario rimane ugualmente, pertanto i Vigili del Fuoco sono costretti a sdoppiarsi. Ricordiamo che in tutto il territorio siciliano mancano talmente più di 300 unità, sedi come ad esempio Paterno, Adrano, Acireale e altre sedi nel territorio siciliano hanno la necessità di essere riclassificate a massima categoria. La Sicilia merita rispetto, i Vigili del Fuoco siciliani meritano rispetto, pertanto chiediamo alla regione siciliana, alla protezione civile, al nostro dipartimento di avere un'accortezza maggiore sui lavoratori dei Vigili del Fuoco in Sicilia, perché non possono sdoppiarsi. La popolazione merita di avere un soccorso efficiente H24, abbiamo l'Etna che è sempre in evoluzione, abbiamo il dissesto idrogeologico e le emergenze incendi che quotidianamente ed ogni anno ci mette a nudo le grosse difficoltà che esistono nel territorio siciliano.